CoupApp L'app del GAL, Valle della Coupa, nasce dall'esigenza di rendere fruibile e smart un territorio ricco di storia, cultura, tradizioni e paesaggi da scoprire. CoupApp, per Android e iOS, è facile da utilizzare. Scopriamo insieme le funzioni della app. La schermata iniziale della app mette in primo piano tutte le voci a cui si può accedere è stato creato uno spazio per effettuare una ricerca veloce e immediata. Ecco la funzione intorno a me. Accedendo a questa sezione il sistema geolocalizza l'utente e tutti i vari poi nelle vicinanze che possono essere sia poi riguardanti le aree tematiche oppure riguardanti strutture di accoglienza. Al touch di un punto di interesse specifico si aprirà un'anteprima che porterà l'utente direttamente alla scheda del poi specifico. La sezione aree tematiche mostra le cinque macro categorie di aree tematiche. Cliccando su ognuna di esse l'utente accede a un elenco di poi della sezione specifica la cultura e le tradizioni, l'ambiente e il paesaggio, l'archeologia e la memoria storica, la religione e l'architettura, le produzioni tipiche e l'artigianato locale. Accedendo al poi specifico si visualizzano una serie di informazioni, info, galleria fotografica, mappa con il punto geolocalizzato ed i contatti utili. Nella schermata itinerari l'utente può accedere direttamente a tutti gli itinerari cercati. C'è poi l'itinerario specifico. L'utente accede ad un itinerario scelto. Questa sezione infatti mette in evidenza una mappa con un percorso creato da una serie di poi, una descrizione di questo ed un elenco di tutti i poi specifici dell'itinerario. La sezione servizi mette in evidenza l'elenco di tutte le categorie che riguardano i servizi offerti. Per servizi intendiamo luoghi di accoglienza, di ristorazione, punti vendita, utilities e via elencando. L'ultima sezione della app Valle della Cupa Experience Coup App è dedicata alle news. Una sezione che di volta in volta ospiterà le news scaricate dalla Valle della Cupa. Scarica Coup App da Google Play o App Store e viaggia nella Valle della Cupa. Scarica Coup App 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 Scarica Coup App